quando un uomo ti ama profondamente fa queste cinque cose allora ti ricordo appunto quindi che su ogni canale ci sono degli abbonamenti canale massimo terramasco canale crescita personale con massimo terramasco canale felicità benessere sul canale felicità benessere con massimo terramasco venerdì 20 24 settembre dalle ore 20 30 alle 23 ci sarà il mio seminario online per imparare a gestire l'imprinting quindi non perdete questo seminario abbonati vai sul canale felicità benessere tastino abbonati vicino a tastini iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare col computer ed abbonati selezionando seminario online e veniamo 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 al tema quando un uomo ti ama profondamente farà queste cinque cose fa queste cinque cose allora come fai a sapere se un uomo davvero innamorato di te come fai a sapere se un uomo che ti dice che ti ama lo pensa davvero perché la parole diciamo possiamo dire tutto è il contrario di tutto ti amo tesoro salsiccia e pomodoro ma questo non significa che ti ami davvero perché ti dice ti amo tesoro salsiccia e pomodoro devi capire quali sono i comportamenti che gli uomini mettono in atto perché è soltanto dai comportamenti e solo esclusivamente da quelli che tu riesci a capire che se una persona ti ama intanto tra l'altro nelle fasi iniziali di una relazione può essere ancora più difficile capire con certezza se un uomo ti ama soprattutto quando deve ancora trombarti perché se deve ancora trombarti diciamo che molte delle energie le metterà proprio per questo motivo perché il maschio ha un po diciamo questa capacità di spingere diciamo di fare delle cose per tra virgolette trombare perché questo rappresenta un po come dire la conquista l'istinto naturale di conquista presente in ogni maschio se ti ha già trombata e manifesta invece delle cose potrebbe devi guardare i comportamenti perché non ti voglia frenzonare o soprattutto non ti voglia mettere in una zona di friendship with benefits cioè amica con beneficio insomma beneficio di trombaggio quindi è molto importante guardare cosa fanno gli uomini più che quello che dicono gli uomini allora quali sono i comportamenti che mettono in atto diciamo gli uomini quando ti amano intanto devi anche tenere presente il linguaggio del corpo quindi